Gli over 60 sono poco attenti alla prevenzione, si sottopongono di rado o addirittura mai a screening e indagini diagnostiche per le principali patologie che li riguardano, mentre i dati epidemiologici real life rilevano una preoccupante estensione del sommerso per diverse patologie croniche e non solo. È quanto emerge dalle recenti indagini condotte da Signor Italia Federanziani sulla popolazione over 60 all'interno dei centri sociali anziani della sua rete. Il 60,6% degli over 60 non ha mai eseguito una spirometria, il 16,8% non effettua mai controlli dal cardiologo, il 46,2% dei rispondenti non ha mai eseguito il rilevamento del sangue occulto nelle feci, il 56% dei rispondenti non ha mai eseguito esami per valutare la densità ossea, il 76,8% non ha mai eseguito un controllo della saturazione dell'ossigeno, il 79,2% non ha mai eseguito una emogasanalisi arteriosa, il 40,8% non si sottopone mai a controlli dell'udito, l'8,2% non fa mai controlli alla vista, il 13,6% non fa mai il test del PSA nel sangue. Non è trascurabile la quota di 50-69 anni che non si è mai sottoposta a una mammografia a scopo preventivo o lo ha fatto in modo non ottimale. 11 donne su 100 non hanno mai fatto prevenzione e altre 16 su 100 riferiscono di essersi sottoposte alla mammografia da oltre due anni. L'indagine condotta da Signor Italia Federanziani su un campione di 6.000 over 60 voleva misurarne lo stato di salute ma anche l'approccio verso la prevenzione. A tali dati si affiancano quelle real life sulle patologie non diagnosticate che rivelano come la scarsa attenzione alla prevenzione e alla diagnosi precoce generi un preoccupante dilagare di patologie sommerse nella popolazione over 60. Il test pilota su un campione di oltre 6.000 anziani per un periodo di 145 giorni è stato effettuato somministrando diversi esami diagnostici misurazione della pressione, elettrocardiogramma, spirometria, saturimetria, dermatoscopia, OCT. Signor Italia infine ha intercettato 13 casi di cancro alla mammella. La maggior parte di coloro che effettuano gli screening ne viene a conoscenza tramite una lettera della ASL. Di coloro che non effettuano screening, Signor Italia ha convinto 256 soggetti a sottoporsi all'esame aiutando a prevenire 13 casi di cancro alla mammella.